La sua attività si occupa prevalentemente di stampe grafica. Nel periodo natalizio sono attività che servono soprattutto a un'amministrazione comunale. Lei è lavorato? Noi non abbiamo ricevuto nessuna richiesta di preventivo, nessun lavoro fatto, quindi siamo veramente dispiaciuti. Fortunatamente lavoriamo con scuole locali, enti locali, ma non abbiamo ricevuto una sola richiesta di preventivo, zero. Eppure comunque abbiamo visto manifesti fatti, volantini fatti e questa è una cosa che ci rimane, ci rimanevamo proprio delusi, delusissimi da questa amministrazione che pensa solo ai comodi loro. Da quanto lavora sul territorio di Torre del Greco? Noi siamo un'azienda che dal 94 esercita la propria attività, quindi sembra strano che non abbiamo ricevuto nemmeno una richiesta oppure un'email dicendo tu Maurizio Serigraf puoi fare un manifesto, quanto ci costa fare un manifesto, che prezzi hai? Invece zero, sono scomparsi. Dubbi ai quali Maurizio non riesce a trovare una risposta, così come tante altre attività attive da anni sul territorio di Torre del Greco, che si accodano al suo appello. Un malcontento che diventa ancora più marcato per il momento drammatico che sta vivendo l'economia cittadina. Un periodo di emergenza economica legata soprattutto all'emergenza sanitaria, ma c'è malcontento a parte degli esercizi commerciali. Esercizi commerciali messi a dura prova, soprattutto durante le festività natalizie, che ora nutrono una sfiducia nei confronti dell'amministrazione comunale di Torre del Greco. Da cosa nasce questo malcontento? Il malcontento nasce da tutti noi commercianti, quindi non riusciamo a capire come voi prendete voti da Torre del Greco, da noi commercianti, da noi imprenditori, e poi spostate automaticamente questi lavori in altre zone. Siamo stanchi, siamo stufi, sono anni e anni che vi nascondete dietro a queste associazioni fasulle per far scomparire quel poco che a noi servirebbe. Io sono un'azienda che fortunatamente riesce a mantenere alcune famiglie del territorio. Ma perché fare questi movimenti strani, far sparire delle cose, dei lavori che a noi potrebbero veramente servire, quel poco per dar da mangiare veramente a queste famiglie, e fare sempre questi giochetti. Quando poi serviranno voti e quant'altro, inizieranno a bussarci di nuovo. E noi ci dobbiamo far sentire perché non è possibile rimanere fermi a guardare queste persone che fanno sempre il loro lurido gioco.